Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su Maternitrosa e oggi siamo qui in questo nuovissimo episodio di... Fatemi fare mentre è locale, ecco qui, Assassin's Creed Syndicate Ragazzi siamo qui tutti belli per... oh, attrezzatura nuova Corri di ferro, vai al bastone, animato, maia Attacco più uno, letalità meno due, questo bastone Va bene, va bene, va bene, poi dopo ci pensiamo Allora, eravamo arrivati in questo punto qui dove dobbiamo andare dal capo della distribuzione Se vogliamo fare la sincronizzazione completa a 100% dobbiamo derubarlo Allora, quello che non dobbiamo usare è sicuramente la pistola Ora ci entreremo la testa, boom, ecco qui Uno è morto L'altro Morto pure lui Lui è piuttosto No Ora, lì ce n'è uno E là ce n'è un altro Io direi Eliminiamoli tutti In modo che ci sarà un lavoro più facile Ecco qui Benissimo ragazzi, siamo proprio forti Allora, poi dobbiamo Devo riuscire Allora, dobbiamo saltare per di qua Boom In silenzio esagerare Vediamo se no Mamma mia raga Mamma mia Allora Voglio un attimo abbassare un poco l'audio di Assassin's Creed Cioè No, allora Opzione audio No, ok Sta Ok Un po' di volumi dialoghi di meno Ok Allora Voglio un attimo No Che cazzo Allora Lì c'è il nostro obiettivo Allora Qui dobbiamo Allora Allora Vai Cazzo Mamma mia raga Abbiamo rischiato qui Perché per sbaglio ho fatto la corsa acrobatica in giù Non dovevamo farla proprio perché non ci serve Ora dobbiamo cercare di andare verso il nostro Verso il nostro obiettivo E Allora Rapirlo Così che Così che Allora Fa così Vai Vai Furtilità Rapidità Sorpresa Allora Tentiamo di derubarlo in un modo A cab Ma proprio a cab raga No Non dovevo fugire Stordirlo Allora Allora Dobbiamo camminare lentamente Con quest'idiota Oh mio dio ragazzi È proprio fighissimo Questo fatto che Oh mio dio raga Ma questa voce di Jacobo Molto Oh mio dio Guardate qui Oh mamma mia raga È veramente un grande Jacob E tra l'altro Nessuno ci ha individuato Ok Tratteniamola Noi Benissimo Dove E con te Mamma mia Ragazzi Le scene Epiche Ok dai Tiravugni Potenza Corvina Ok vota questo ricordo Sempre 5 stede Perché noi siamo Lecchini Allora voglio Voglio avere Subito questo Tiravugni Proprio Però è molto inferiore Ma davvero di parecchio Eh Vabbè Stessa cosa Potenza Corvina Potenza D'equipaggio È più forte Del Curri Veramente più forte Del Curri Ok Allora Teniamo un Tiravugni Che fa paura Veramente A non so cosa Ora Nel frattempo Direi di andarcene Verso la prossima Missione Allora Tra l'altro Allora Tengo Questa missione qui Poi dopo Dovrei tenere Questa qui Le ultime notizie Quindi all'ultimo Ora andiamo Verso questa direzione Lì Quella là Sempre Dentro le fabbriche Tra l'altro Se ci guardiamo Intorno Nella mappa Di Assassin's Creed Raga Possiamo notare Che Oh mio dio Ci stanno tante Di quelle fabbriche A Londra Che Veramente Boh Ma che cazzo Raga È esagerato Esagerato Ma poi immagino Che quanto inquinamento Che producevano All'epoca Raga Tutto che si respiravano A Londra Si respiravano L'aria bella Quella lì Bella Come mai Là sopra Vabbè Ok Vai così Boom Boom Allora Vediamo un po' Sequenza 34 Sezione Cintura In pelle nera Va Big Ben Uh Mosè Oh e chi era Quel vecchietto E da dentro c'è una persona Si vede Oh mio dio Ma un secondo Non c'era Nessuno Lì Direi di Fare fuori a lui Boh È il chat Nello stesso momento Fare fuori a lui No è il 18 Non è il 18 Lì Oddio Via da qui Perché Alla prossima Ci scopriranno Così In questo modo Pian piano Moriranno tutti Il giallo Signori A A Allora Oddio Raga Come cazzo Hanno fatto Non vedermi Allora Dobbiamo Cercare Di Di avere Ma hai visto Dio Quanto è stronzo Allora Vediamo un po' Diciamo Un poco Di furtività No Cazzo In questo modo Micca Sono saltati No Non è saltato Nulla Oddio Raga Guardate qui Oddio Ragazzi Guardate di lì Guardate Oddio Stavo facendo Il moonwalk Ragazzi Ha fatto il moonwalk Allora Facciamo così Boom Mamma mia Ragazzi Proprio Pro E qui Guarda qui Sì 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 Perché fai così Oddio Boh Appunto Sì Sì Vino Oh Cazzo Raga Wow Però Proprio Stile Steampunk Raga Qui Che dobbiamo fare Ci dobbiamo Andormentare L'erba Del diavolo Mi ricordo Che nei programmi Di burglies Stim Tipo Dicevano Che l'erba Del diavolo Era Proprio Esageratamente Mente Tossica Oddio Si fammi dire Te che apri La porta No Non sa aprire Una porta Cioè Tra l'altro Tiene anche La serratura Oddio Allora Saliamo su Però Possiamo salire Su qua Nel prossimo episodio Quindi ragazzi Per questo Questo è tutto Un abbraccio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Comentate Iscriviti Lasciate un commento Nella descrizione Un abbraccio Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi